Fratelli e sorelle, in questa ventesima giornata del tempo ordinario celebriamo anche la giornata mondiale della cura del creato. E' bello allora pensare che questo creato, di cui noi non siamo padroni ma siamo i custodi, deve essere salvaguardato per il futuro dell'umanità, per rendere conto e ragione alle generazioni future del rispetto che abbiamo della nostra madre terra. E' lo stesso rispetto che Gesù esige, siamo al capitolo settimo di Marco, rispetto al rapporto delle tradizioni degli uomini e i comandamenti del Signore. Trascurando il comandamento di Dio voi osservate le tradizioni degli uomini ed è un richiamo forte a quanti si richiamano alle tradizioni, alla tradizione ma non alla parola di Dio, che deve essere invece nel cuore dei credenti, nel cuore dei credenti. Nella prima parte del Vangelo Gesù ci parla delle purificazioni giudaiche, dall'altra parte, nella seconda parte invece, della distinzione tra puro e impuro. Ormai i digiuni tradizionali sono aboliti perché è presente lo sposo. Infatti contestano Gesù il fatto che gli apostoli si siano appropriati dell'offerta nel Tempio. Le abruzioni non hanno più valore. Ogni tradizione umana costituisce di fatto un ostacolo alla parola di Dio. Bisogna allora abrogare, dice Gesù queste tradizioni, per ritornare alla volontà di Dio. È sorto un ordine nuovo. Ormai, ecco, deve regnare, in cui regna questo ordine nuovo, della redenzione e del mondo, la parola di Dio. Perché? Perché le tradizioni sono incapaci di purificare l'uomo nel suo interiore. Ecco perché Gesù pone fine alla distinzione tra puro e impuro. Tutto è stato creato per il bene. E il nostro cuore, dal nostro cuore, invece solgono invece le invidie, l'impurità, il male che c'è dentro di noi, con cui noi non siamo capaci di vedere il bene invece che c'è negli altri. L'immagine allora dei tempi messianici, che sono ormai apparsi, rendono inutili queste tradizioni degli antichi. Ciò che vale allora per il Signore è il perdono, che trasforma il cuore e il modo di agire da parte di noi. Le altre cose, infatti, non trasformano, non sono capaci di apportare una realtà di novità di vita. Ecco perché bisogna avere una concretezza fattiva, reale da parte dei cristiani. Le decisioni vanno prese secondo la fede, secondo la parola di Dio, il riferimento alla volontà di Dio. Ecco perché occorre che la Chiesa, a tutti i suoi livelli, a livello ministeriale dei carismi, si purifichi per vivere e svolgere il servizio della verità. Se noi cristiani non ci purifichiamo, saremo i primi a vivere nella menzogna e nel peccato. Ecco perché i cristiani, allora liberati dalla schiavitù della legge, saremo motivo di scandalo, in maniera positiva, per coloro che invece sono i falsi sostenitori della legge, cioè coloro che si chiudono nella legge, ma non accolgono lo spirito che dà vita. E allora anche a noi Gesù dice, questo popolo mi onora con le sue labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Osservando i comandamenti degli uomini, di fatto trascurano quello di Dio. E allora viviamo in questa dimensione nuova, in cui, torno a ripetere, l'opera della redenzione ci aiuta a comportarci in maniera diversa, soprattutto nei confronti del creato, che noi dobbiamo rispettare, ecco tutto quello che succede con le inondazioni, il clima che è sempre impazzito, ma è l'uomo che è impazzito.